Rivendicano il loro posto di lavoro, sono i 52 guardiafuochi dell'impresa Archimede, protestano dinanzi alla capitaneria di Porto di Gela, dove essere venuti a conoscenza che il loro lavoro sarà svolto da un'impresa di Palermo che svolge le loro stesse mansioni di sicurezza sulle imbarcazioni. Siamo qui per ribadire un po' tutta la situazione quella che c'è, senza nemmeno avvisarci, senza nemmeno dire niente che il lavoro veniva preso da questa ditta. Speriamo che la prefettura ci manda a chiamare subito così si chiarirà un po' tutta questa faccenda. Il deputato regionale del Partito Democratico, il gelese Giuseppe Lancio, ha assicurato un suo intervento. Oggi abbiamo avuto un incontro con il comandante della capitaneria di Porto, il comandante Carosia, che ci ha spiegato un po' le ragioni di questa tegola. Abbiamo chiesto, ho parlato con i lavoratori perché è urgente che si venga chiesto un tavolo immediatamente in prefettura per chiarire le ragioni di questa difficoltà che stanno incontrando questi lavoratori. Quindi penso che incontrando la raffineria, incontrando la ditta che si occupa del servizio, e incontrando la capitaneria di Porto questo problema penso che nel breve giro di tempo debba essere risolto. Questa mattina al fianco dei lavoratori c'era anche il capogruppo consigliare del PD, Enzo Cirignotta. Ritengo che non sia possibile e non è consentito che in una città come Gela che sta soffrendo tanto, che è stata decretata come area di crisi complessa, vengono delle ditte di fuori, parliamo in questo caso del palermitano, e vengono buttate in mezzo ad una strada circa 50 lavoratori. Speriamo che più presto questo problema vengano affrontato in prefettura, attraverso un tavolo tecnico, perché non sappiamo più cosa dire ai nostri concittadini.